ferrovia tappa a pesero del ministro giovannini in duomo l'ultimo saluto a marcello berloni via al processo per diffamazione a umberto carriera sicurezza al campus telecamere esterne attive 24 ore altro colpo vl ingaggiato anche mazzola una buona serata a tutti voi gentile pubblico di rossini tv ben ritrovati ad un nuovo spazio della nostra informazione serale di rossini news ultimo telegiornale della settimana il primo di questo mese di luglio notiziario di venerdì primo di luglio che apriamo proprio con la visita a peso del ministro delle infrastrutture enrico giovannini e visita a pesero che tuttora in corso il ministro è stato inizialmente ospite nella prefettura di pesero e urbino per un focus dedicato proprio alla ferrovia bologna lecce con particolare interasseamento al tratto pesarese sensibile di arretramento ascoltiamo proprio il ministro intervistato a caldo dal nostro eduardo razzi abbiamo ottenuto un risultato storico dalla commissione europea cioè riconoscimento che la ferrovia adriatica è una corridoio core dell'unione europea siamo l'unico paese che a questo punto ha due corridoi è chiaro che abbiamo scelto di investire oltre 5 miliardi 5 miliardi sulla adriatica e continuiamo a investire continueremo ad investire negli anni prossimi quindi è un progetto complesso è un progetto che si costruirà nel tempo abbiamo elaborato una nuova proposta che discuteremo con la regione marchere altre regioni in maniera tale da arrivare il prima possibile a un accordo per fare poi passi successivi la adriatica è il luogo di scorrimento delle merci in italia e con tutto l'investimento che stiamo facendo nei porti del centro del nord del sud non possiamo rischiare che l'adriatica sia un collo di bottiglia dunque l'investimento che stiamo facendo non è solo per i passeggeri e anche naturalmente per le merci e proprio in questa prospettiva noi vogliamo ridurre al minimo i possibili disagi per i cittadini ma è un investimento pluriannale ed è un investimento di cui il paese ha bisogno proprio per evitare di avere poi un blocco dopo tutti gli investimenti che stiamo facendo sul sistema logistico generale le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono invece al funerale di marcello berloni grande industriale pesarese fondatore col fratello antonio dell'omonima berloni cucine che scomparso mercoledì all'età di 84 anni all'ospedale san salvatore di pesero dopo un periodo di malattia questo pomeriggio il duomo si è raccolto nel commosso ultimo saluto ad un capitano di industria che ha creato lavoro occupazione benessere e un brand cuciniero di primordine internazionale un uomo che anche fatto di tutto per salvare quell'azienda poi avviatasi al declino negli ultimi 12 anni in cattedrale a fianco alla moglie anna e figli cati andrea roberto tante personalità del mondo imprenditoriale del territorio che hanno intrecciato la loro storia con berloni così come le istituzioni che hanno accompagnato questa parabola industriale negli ultimi decenni cambiamo argomento e ci spostiamo al tribunale di pesero dove oggi è iniziato il processo a carico del ristoratore nonché leader del movimento io apro umberto carriera l'accusa è quella di diffamazione questa mattina nelle tribunale di pesero si è aperto il processo a carico di umberto carriera ristoratore pesarese nonché leader del movimento io apro al centro del processo un episodio risalente al 15 gennaio 2021 ovvero una serata in cui carriera mantenne aperto il ristorante la grande bellezza di monbaroccio ribellandosi e contravvenendo agli allora dpcm di chisura anticipata derivati dalle normative anticontagio alla sbarra però carriera non ci finisce per l'atto di ribellione ma perché nell'occasione furono filmati poliziotti in azione con immagini postate sui social che suscitarono una raffica di commenti conditi da insulti carriera e la compagna clarissa rosselli assistiti dall'avvocato federico bertuccioli d'oggi dunque rispondono dei capi di imputazione di diffamazione con l'aggravante di fatto commesso contro pubblico ufficiale nonché di diffusione di video audio carpiti in maniera fraudolenta quello che ci tengo a ribadire che come sempre da parte mia c'è c'è stato il massimo rispetto per le forze dell'ordine credo che quel 15 gennaio 2021 abbiano esagerato quattro posti di blocco per arrivare al ristorante la grande bellezza 20 agenti che fanno irruzione a cena finita per un ristorante vuoto mi sembra un'esagerazione e quindi ho ritenuto opportuno filmare quello che è accaduto senza dimenticare poi che lo stesso tribunale alle nostre spalle ha annullato le multe relative a quella cena quindi non è stato commesso nessun reato che tra l'altro è una sanzione amministrativa di 280 euro pubblicato il video i cittadini il popolo italiano poi ha commentato quello che è accaduto ma io in questo non ho chiaramente alcuna alcuna responsabilità è stata una prima udienza interlocutore in cui ci sono state due richieste di costituzione di parte civile dalle parti offese vale a dire il commissario di polizia paolo badioli difeso dall'avvocato carlo rampino ma anche dai tre sindacati di polizia fisp silp e siulp difesi dall'avvocato andrea la torraca il processo prevede per il 10 ottobre il conferimento in carico di un perito per estrazione di copia forense del cellulare dell'imputata clarissa rosselli che ha filmato l'azione dei poliziotti per valutarne una presunta alterazione le parti civile commissario badioli sindacati hanno avanzato ciascuna un'analoga richiesta di 21 mila euro dopodiché il 5 dicembre il processo entrerà nel vivo con l'udienza dei testimoni vittorio sgarbi compreso carriera si è detto comunque fiducioso sul decorso della giustizia così come sul futuro politico del movimento io apro rinascimento ma io apro rinascimento ha avuto un ottimo risultato le amministrative nella vicina cività nova marca abbiamo raggiunto quasi 12 per cento come lista mediamente siamo vicini al 3 per cento in tutta italia ci stiamo preparando per le regionali in sicilia e per le prossime politiche i carabinieri di ancona hanno sgominato una banda dedita allo spaccio di droga che agiva sull'intera costa marchigiana indagate nove persone cinque italiane e quattro albanesi residenti francona peser orbino firenze e pescara indagini che hanno visto notificare almeno una ventina di reati di spaccio di hashish marijuana e cocaina da fine 2020 ad oggi nonché arrestare un ventisettenne albanese residente nell'anconetano al quale sono stati sequestrati un furgone uno scooter sei conti correnti e bene cinque immobili siti a marotta e mondolfo arrestate altre cinque persone per i reati di spaccio fra cui un ventisettenne di fano e torniamo su pesero dove la provincia per conto del presidente paolini ha firmato oggi il decreto per avere attivo il sistema di videosorveglianza esterno del campus scolastico per 24 ore su 24 le riprese delle 36 telecamere della provincia in precedenza erano invece in funzione dalle ore 15 alle 7 di mattina adesso viene invece aumentata la tutela del patrimonio provinciale da furti e atti vandalici con le telecamere che saranno messe a disposizione delle forze dell'ordine per l'individuazione di eventuali autori di reati tanti i temi emersi nella presentazione del bilancio di sostenibilità di marche multiservizi avvenuta ieri a palazzo ducale della prefettura di pesaro temi che vi mostreremo approfonditamente martedì 5 luglio in uno speciale che andrà in onda alle 21 e 20 ieri con l'assessore aguzzi abbiamo toccato in questo contesto il tema dell'emergenza e della crisi idrica oggi invece andiamo nello specifico del bilancio di sostenibilità attraverso le interviste realizzate dal nostro antonio astuti il bilancio di sostenibilità è un aspetto fondamentale per un'azienda che guarda il territorio per un'azienda che un ruolo sociale importante così come marche multiservizi. Marche multiservizi è un'azienda che ritengo sia attrezzata fortemente per affrontare queste sfide difficili e delicate i temi li conosciamo tutti sono quelli della crisi idrica in questo momento ma sono quelli della transizione ecologica della neutralità carbonica quindi da questo punto di vista l'azienda ha ottenuto anche dei premi a livello nazionale la migliore utility per la sostenibilità per il secondo anno consecutivo e quindi vogliamo evidenziare questo ruolo di marche multiservizi delle volte ci si focalizza in maniera anche un po' dispregiativa rispetto ai dati economico finanziari patrimoniali che sono buoni per fortuna quindi rivendichiamo anche quel bilancio lì ma oltre a quel bilancio c'è tutto un altro mondo che è quello del bilancio di sostenibilità degli obiettivi di sostenibilità che rispondono a quelli che sono gli obiettivi dell'agenda ONU 2030 quindi andiamo a misurare il cosiddetto valore condiviso quindi in termini di risparmio energetico, di efficientamento, di produzione di energie da fonti rinnovabili, di economia circolare, marche multiservizi si occupa di rifiuti per cui siamo impegnati nella circolarità del prodotto quindi nel suo recupero anche a livello impiantistico abbiamo in essere diversi progetti speriamo che con i fondi PNR ci possono aiutare in questo miglioramento dell'impiantistica perché vogliamo affrontare questo periodo con tutte le carte in regola per cui vogliamo presentare questo bilancio di sostenibilità ma vogliamo anche rassicurare e confrontarci con gli altri rispetto alle azioni da intraprendere per il futuro. Marche multiservizi troppo spesso viene vista come l'azienda che manda le bollette che non fa bene una cosa che non fa bene l'altra e purtroppo ci si dimentica di quanto lavoro c'è per fare le cose che facciamo aprire il rubinetto e arriva l'acqua è tutto scontato per arrivare a questo invece c'è un mondo di lavoro così come sulla funiatura e sulla depurazione così come sui rifiuti quindi per fare tutto questo serve competenza professionalità che come azienda siamo veramente soddisfatti di averla e credo che abbiamo messo al centro proprio la relazione col territorio vorrei ricordare che il primo noi abbiamo vinto quattro premi del top utility il primo che abbiamo vinto è stata proprio se non ricordo male nel 2012 è stata la relazione col territorio e mettere al centro il territorio la collettività e i nostri stakeholder istituzionali proprio in questa direzione abbiamo modificato nell'ultima assemblea di bilancio lo statuto dove abbiamo messo proprio lo scopo sociale attraverso quello proprio per dare un senso ancora ancora più forte anche dal punto di vista formale di quello che è il nostro impegno verso l'inclusione verso la ricaduta sociale verso la ricaduta ambientale vogliamo essere veramente a fianco degli amministratori e dei sindaci dicevo perché comunque il periodo che dovremo affrontare non sarà facile quindi oggi l'emergenza idrica l'emergenza e la crisi energetica ce lo dimostra e tutto questo significa che ognuno deve fare un piccolo passo un piccolo contributo in modo tale che l'intero sistema poi possa avere dei risultati le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono invece alla nutrita partecipazione al concerto di motta in baia flaminia che alle prime luci dell'alba di oggi ha tenuto un esibizione musicale iniziata alle 6 di mattina inserita nei tanti eventi del caterraduno attualmente in corso visto l'orario a motta è stata anche offerta una colazione con una tipicità pesarese come la pizzetta rossini gli appuntamenti musicali del caterraduno continuano anche questa sera alle 21 e 30 con l'esibizione di ariete e domani sera con banda bardo e cisco e oggi è stata anche presentata la 35esima edizione del boff burattini opera festival sei spettacoli fra burattini marionette pupazzi risate e musica pronta a coinvolgere grandi e piccini appuntamenti nel cortile di palazzo mazzolari mosca il 5 6 e 7 luglio con di pinocchio l'avventura cappuccetto rosso e l'incredibile circo puè e poi il 12 13 14 luglio con nonna e volpe dario e serena e l'asino della fortuna appuntamenti tutti alle 21 e 30 e invece nella vicina cattolica dal 4 al 7 luglio l'associazione rimbalzi fuori campo organizza il festival della cultura sportiva con i muscoli e col cuore in piazza primo maggio con una ricca carrellata di ospiti legati allo sport e al racconto sportivo leo turrini manuela mantegazza paolo de chiesa luca pagliari simona baldelli eraldo pecci furio zara jader fabbri andrea pagnini gialluca genoni la nazionale basket sorde elisabetta ferri beatrice terenzi zico pieri alessandra giardina paolo pagnini laura padovani e gianni bellini e dunque tanti ospiti a cattolica come tanti ne ha invece avuta fanno dove si è chiusa appena chiusa un'edizione da record davvero per passaggi festival con 45 mila presenze in nove giorni di eventi e anche un forte aumento della vendita di libri cifre e risultati che riepiloghiamo in questo servizio di simone celli 197 eventi in nove giorni e circa 45 mila presenze sono soltanto alcuni dei numeri dell'edizione di passaggi festival che si è appena conclusa la decima quella dei record che confermano come la manifestazione giochi ormai nello stesso campionato di pordenone e mantova dove si svolgono le principali rassegne librarie nazionali i volumi presentati sono stati 112 5 le mostre allestite ancora in corso e a ingresso gratuito mentre sono stati 17 i laboratori organizzati che hanno visto la partecipazione di 222 bambini 130 invece le persone impegnate ogni giorno in gran parte giovani e per il 90 per cento donne tra cui 40 studentesse e studenti del liceo nolfi appolloni sì un successo che ci fa ben sperare per il futuro un successo sia in termini di pubblico perché abbiamo avuto anche tante presenze che arrivavano dal veneto dall'emilia romagna dalla lombardia dal piemonte dall'umbria naturalmente e ovviamente dalle altre province marchigiane è successo anche perché devo dire che nonostante il programma fosse davvero ricco fatto di tante presentazioni ogni giorno il pubblico ha sempre seguito e quindi ha ricepito l'offerta la proposta culturale che abbiamo messo in piedi anche in quelle rassegne magari un pochino più tra virgolette un pochino più difficili nel chiostro c'era un appunto delle rassegne specialistiche filosofia scienze storia dell'arte intelligenza artificiale e di voi è stata vinta perché sono state sempre frequentate hanno avuto sempre tanti complimenti le persone ci hanno anche scritto email chiedendoci di continuare su questa strada cosa che faremo l'anno prossimo eclatante è stata anche l'impennata dei libri venduti durante il festival 2500 il 50% in più rispetto allo scorso anno una piccola grande boccata d'ossigeno per un paese l'italia in cui si legge sempre troppo poco ma anche un'ulteriore prova del successo di passaggi che consente di guardare al futuro con un certo ottimismo guardiamo al futuro sempre con ottimismo lo facciamo dal 2013 mai farsi mancare un po' d'ottimismo guardiamo con ottimismo e anche con qualche elemento di solidarietà in più perché il comune di Fano ha comunque contribuito in maniera importante al festival la regione Marche per la prima volta ha messo a disposizione un contributo che è quasi pari a quello del comune di Fano gli sponsor privati non hanno risposto ancora come poteva essere in epoca pre-covid ma si stanno avvicinando e per noi la solidità economica è fondamentale perché chiaramente non organizzi nulla se non hai le risorse per farlo Sì, questa decima edizione che era anche un compleanno particolare è stata strepitosa veramente tantissima partecipazione, oltre 45.000 persone hanno partecipato agli eventi, alle presentazioni dei libri ma quello che mi piace sottolineare è soprattutto questa contaminazione, questo radicamento che ha avuto nel tessuto cittadino e la capacità che ha avuto di accogliere sia le persone nelle zone limitrofe ma anche persone che venivano un po' da tutta Italia è un'edizione straordinaria che ha saputo emozionare di altissima qualità e di forte intensità e l'altra cosa che mi piace sottolineare è la città stessa che si presta con questi suoi contenitori che oltre ai contenuti danno anche un'emozione così come scenografia che arricchisce ancora di più questo festival per cui veramente una grande soddisfazione, ecco l'ultimissimo elemento che mi piace sottolineare tanti eventi anche contemporaneamente, tutti soldato, tutti molto pieni Il festival è finito, il palco ormai smontato, ma quella di Passaggi Festival è una macchina che non si spegne mai Sì, noi adesso abbiamo un periodo in cui elaboriamo la rendicontazione economica dell'edizione 2022 e poi da settembre andiamo in giro per festival per contattare autori, incontrare editori e preparare l'edizione 2023 Il tributo a Whitney Houston di Belinda Davids e lo spettacolo della Street Art Symphony sono questi i due concerti Xan Italia dell'estate 2022 che tra l'altro sanciscono ben dieci anni di sostegno dell'azienda del patron Franco Signoretti appunto al fianco della attività musicale dell'orchestra sinfonica Rossini Quest'anno i concerti Xan Italia saranno in Piazza del Popolo, saranno ad ingresso gratuito per la cittadinanza e per i turisti e saranno i primi due lunedì di luglio. Il 4 luglio ci sarà un'artista internazionale di grandissimo livello, Belinda Davids che è di fatto una delle cover più accreditate al mondo di Whitney Houston Quindi sarà una serata in cui l'orchestra, la parte sinfonica, si unirà alla parte moderna per un'orchestra symphony pop e eseguiremo i grandi successi portati alla ribalta da The Voice Whitney Houston La direzione sarà di Roberto Molinelli Secondo appuntamento l'11 luglio, sempre di lunedì, sarà un progetto di innovazione Cercheremo di raccontare un'arte visiva attraverso la musica Si tratta della street art, il titolo è Street Art Symphony alla quale aggiungeremo delle musiche del repertorio classico che abbiamo trovato e che crediamo siano affini o almeno abbiano un collegamento con la street art Il racconto sarà della storica d'arte Antonella Michaletti La direzione è di Daniele Rossi e qui l'organico sarà il grande organico sinfonico Tutto questo è possibile grazie anche a dieci anni consecutivi di contribuzione da parte di Franco Signoretti di San Italia che è un numero veramente importante che ovviamente dà molta possibilità e più facilità di programmazione a un'orchestra che contribuisce da dieci anni ad aggiungere una stagione musicale estiva alla programmazione culturale della città In particolar modo quest'anno due eventi gratuiti in Piazza del Popolo che marcheranno due lunedì importanti, il 4 e l'11 di luglio prossimi e quindi saranno anche l'occasione per ritrovarsi in musica e anche contribuire con questo sforzo alla costruzione di Pesaro 2024 Capitale Italiano della Cultura Iniziativa che mi dà e ci dà grande soddisfazione e quindi sia io che la mia famiglia siamo contentissimi di questi eventi e quindi continueremo sicuramente per tanti anni Io credo che questi concerti così organizzati siano più facilmente fruibili un po' da tutto il pubblico perché mentre si fa musica e soprattutto della bella musica ad alto livello si fanno degli approfondimenti anche di carattere culturale che possono affrontare argomenti vari e sicuramente nei prossimi anni avremo dei programmi che potranno essere sempre innovativi ed interessanti Ed ora lo sport secondo colpo di mercato in appena due giorni per la VL che ingaggia un altro giocatore italiano Dopo Visconti la Carpegna Prosciutto Pesaro ha infatti ufficializzato questo pomeriggio l'ingaggio di Valerio Mazzola Mazzola ha sottoscritto un contratto biennale con la VL e giocherà con il numero 22 E questa domenica 3 luglio c'è invece la prima edizione di un grande evento di ciclismo prima edizione della competizione Rossini-Raffaello da Pesaro a Urbino con dedica al compianto Marco Ragnetti Sarà dedicata a Marco Ragnetti la prima edizione della gara ciclistica Rossini-Raffaello prevista domenica 3 luglio 80 km di sfida a colpi di pedale che uniranno le due città capoluogo di provincia in una competizione ciclistica nazionale della categoria allievi ovvero dedicata all'età compresa fra i 15 e i 16 anni la stessa età che aveva il pesarese Marco tragicamente scomparso in un incidente stradale in scooter lo scorso mese di marzo Marco era un ciclista dell'Alma Juventus Fano società sportiva che tra i soggetti promotori di un evento che nasce ora con l'ambizione di diventare una classica saranno circa 150 i giovani ciclisti fra i 15 e i 16 anni che domenica prenderanno parte alla prima Rossini-Raffaello presentata lo scorso mese di maggio nel comune di Pesaro alla presenza anche dei commossi genitori di Marco fianco a fianco al lavoro interforza organizzativo di Fisioradi Medical Center CA Virginia Alma Juventus Fano Ciclo Ducale e al sostegno dei comuni di Pesaro e di Urbino Se uno ha una mentalità vincente se uno ha una mentalità con una passione forte se uno guarda avanti come ha detto Giacomo Rossi potrebbe diventare un evento internazionale come dico sempre i sogni nella vita servono per farti guardare avanti per farti realizzare sicuramente e raggiungere degli obiettivi Una gara, un sogno quella voglia di competere e di sognare gareggiando che aveva anche Marco Ragnetti Avevamo ospitato l'Alma Juventus Fano 15 giorni prima della sua morte presso il centro fisioradi Medical Center in una serata dove parlavamo di nutrizione di mentalità e proprio questi ragazzi sognavano questa Pesaro Urbino Rossini Raffaello questa gara in linea sul loro territorio perché loro dicevano è un sogno per noi avere una gara di questo livello qui da noi e qualcuno di loro aveva detto mi piacerebbe vincere e uno di questi era Marco Ragnetti La Rossini Raffaello partirà il 3 luglio alle 15.30 da Piazza del Popolo di Pesaro e raggiungerà Urbino passando per Monte Labate Apsella Talacchio Rio Salso Borgo Massano Cagallo Schieti e Fermignano per un ciclismo che valorizzerà anche il territorio a colpi di pedale e si conclude qui questo nostro spazio dedicato all'informazione di Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo come sempre alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare dalla prima serata di questo venerdì che alle 21.20 vi propone il nostro speciale dedicato alle eccellenze vitivinicole del territorio in particolare al Bianchello Ai Bianchello è il titolo di questo speciale verso il turismo del vino nelle marche e poi vi ricordiamo anche l'appuntamento con Vox Pop la voce dei pesaresi che è andato in onda poco fa con la prima edizione alle 19 come ogni venerdì ma per chi se la fosse persa la può recuperare già questa sera alle 22.30 e poi con le repliche che vedete in grafica dal sabato al martedì ricordiamo l'argomento al via i saldi estivi tra l'altro a partire proprio da domani saldi estivi che vengono analizzati attraverso i commenti dei commercianti pesaresi raccolti dalla nostra Letizia Moretti e poi l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina come ogni sabato con la rassegna stampa Buongiorno Rossini del sabato in diretta dalle 7.20 ci sarà il nostro Antonio Astuti a tenervi compagnia ed è davvero tutto per questa sera vi ringraziamo per averci seguito vi auguriamo una buona serata e un buon weekend in compagnia dei programmi di Rossini TV vi ringraziamo per averci seguito